Avvocato Angiolini ci sono novità importanti per il congedo parentale in questo caso? Novità importanti per quanto riguarda i papà, perché il decreto legislativo del governo del mese di giugno ha introdotto un diritto assolutamente innovativo per quanto riguarda i padri, cioè la possibilità di prendere un congedo parentale di 10 giorni che è un congedo obbligatorio. Non nel senso, Maddalena, che i padri sono obbligati a prendere il congedo, ma nel senso che se il padre lavoratore richiede questo congedo di 10 giorni, il datore di lavoro è obbligato a darlo. E questa è già una differenza, perché nella legge Fornero ne erano previsti solo 3 giorni di congedo, ma facoltativi, il che significava che se il datore di lavoro non li voleva concedere, era libero di farlo. Quando può essere preso questo congedo parentale? Può essere preso nell'arco temporale o di due mesi prima della data presunta del parto, oppure entro i cinque mesi dopo che la moglie ha partorito. E se è un parto gemellare non sono più 10, ma sono 20 giorni. E quello che è veramente importante è il fatto che la retribuzione è al 100%. Senta, Avvocato, perché è stata presa questa decisione? Allora, è stata presa questa decisione dal Governo perché intanto è stata recepita una direttiva dell'Unione Europea. Quindi si vuole un'uguaglianza di genere sia nell'ambito della famiglia che nell'ambito del lavoro. Ma in realtà in Italia ancora c'è poca cultura da parte dei padri di prendere il congedo di paternità. Il Governo ha voluto dare questa facilitazione, questo nuovo diritto per far avere finalmente a questi padri, soprattutto mi raccomando ai padri giovani, un po' di coscienza e di desiderio di stare con i propri figli.